Ora siamo... Ora entro l'azione Caramelo de cioccolaaat La televisione si apre poi Mointra Gioemi Perché andiamo un attimo su Twitch e vediamo se è startata la live Ma che è so... No io non gliela posso fa... Caci perché lo sto fa... Ho pure 104 follower su Twitch Sniampuzzle Sniampuzzle Mo si condivide? Spamma la live sul gruppo Te la mettono sottofondo così c'è respect Siii Io qui ci posso vedere cosa vedi tu No facile Non posso fare F1ata Little loppato Little loppato Vai abbia questa partita porco Aspetta Devo un attimo non so pronto mentalmente Dai a party Ciao Gioemi Ciao Gioemi Ciao Peppiii Gioommiiii io non ce la posso pa io non ce la posso pa ancora è nightboat ma che cazzo non ancora esiste no jomie non ti faccio universo come faccio togli il night boss al canale, vabbè ormai insistere per star live anche sentirei ho tolto l'admin quindi non può più bloccare vabbè fai delante un x audio vabbè come si prova ma si chiacchic se mi fa il jumpscare quindi nooo non te l'ho fatto sei sicuro? sii sono led io bono muovete insicuro? sulle fitte non ti fa niente basta che se vuoi schippare la via partita basta che entri direttamente dal mio invito cosa peppe? dai no peppo ecco c'è covid? si ce l'ho dai sulle muovete aspetta ok andiamo dai avvio ah ok devo accettare solo delle cose nooo ma quanti sono lunghi? no ragazzi sono tre ma cosa c'è il terzo c'è il jumpscare? no no sono tre luminosità l'ultima è cortissima ok non giocare da solo cosa devo scherciare? t'ho invitato t'ho invitato entra dall'invito dio becco ecco no cosa succede? nuova storia vai vai eh che vuoi fare Anthony o Tanya? cosa preferisci? non so uomo o donna? scegli quello che si chiama il jumpscare eh non lo so sole io non so la storia non la conosco ma io faccio la donna vai già mi basta di scegliarti metti pronto sole no spesso pronto vai sole oh ma oddio sole sta a fare un gioco horror no why mamma che caga nooo giami dopo vieni online che è? ecco cosa ho fatto? ho dato un ciccio che mi ero è brutta l'intro no sole non la so non ho visto niente no no non mi piace ci diamo gli occhi no cosa posso fa? caci cosa c'è? cazzoci no 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 vroom vroom questo è sotto casa di giami vroom 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 risale è chiaramente uno da pazzi noo caci sono lì tanto tranquillo no caci no cazzo no io chiudo gli occhi nooo sollevito la tua madre no 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 è night pot si iscriviti canone di youtube polizie pulizie van no no vabbè dai non sembrava brutto no adesso c'è la polizia infatti la polizia vuol dire che sei salvo no no arriva qualcuno da dietro me lo ammazzo guarda ma che sulle ma così sta nel buio tutto non c'è nel cazzo ah questo è un mico cosa ma va dritto suon che te frega degli incidenzi cazzo è a little look ma chi viene per la destinazione ma va dritto posso guidare la macchina allungherà di poco il tragitto ecco ecco pare il coso di me ne ritresi ecco oddio senti la musica no vroom vroom baby ok vabbè tranquillo no 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 mo è little look quindi c'è che ho brutto caci ma perché sta visuale dai mette no caci sto visuale così non mi piace caci caci quando mi fa vedere la strada così al buio non mi piace tu sei tu sei no siamo entrati si si tutto bene guarda tra un po' non è il cazzo tutto no cambiamo gioco cambiamo gioco cambiamo gioco te prego cambiamo no cambiamo gioco continuo continuo che compare nella destra dello schermo mentre che metti pronto ecco comunque se le metti più l'audio sul gioco e non sul party eh spero le do metti in pausa dopo metterlo fidati che ne avrà la pena sicuro si si fidati mi son cagato mi son cagato in mano non ci sono i sottotitoli da mettere eh mi sa che forse tipo devo metterli non lo so adesso vediamo questo cos'è il curatore? no 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 ma chi erano? bambini? oh cazzo oh cazzo come lo gioco? non mi piace si una brutta giornata no vabbè non sembra brutto era una potrebbero esserci alcuni licenziamenti la fabbrica questa storia da anni piuttosto mi preoccupa megan cosa avrebbe megan? non ho notato niente cosa vuoi notare dopo dieci birre? oggi il reverendo Carson l'ha presa da parte lo fa da quattro settimane non sta a più? non scherzi non preoccupi troppo per quella bambina ho altro che puoi pensare adesso ma non mi dire no la mazza no la mazza quando troverai del tempo? vai montando una tragedia sul nulla non capisco perché agitarsi tanto sul nulla? occuparsi da sola di tutta la famiglia io non lo definirei nulla mi servirebbe una mano forse se avessimo dei figli nostri sarebbe tutto diverso questo è un colpo a passo non capisci quanto sia ora per me? non sei l'unica persona sotto pressione in fabbrica tira una brutta aria molto brutta si 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 ho gammato non è il momento porca la puttana che succede? ma da bambini? ma da bambina no non stasera non è il momento oh cazzo che ho preso? una birra i bannini trampa solo Axe Anthony chi è Anthony? oh cazzo eh tu sei il tipo mi sa io sono la sto cuglio io sono la tipa che devo fa? eh non lo so adesso vediamo usare per scegliere è sempre in ritardo solo da quando frequenta lui il tipo non mi piace affatto ma che cazzo oh minchia chi ha? questa è la bambina che è comparsa prima davanti a là o cosa? questo è un classico un disco pazzesco beh ma è cido no? ma guarda è brutta eh il solleco se è il problema ma è ancora iniziato ah bisogna giocare solo questa parte eh no il cazzo non adesso smettila di fare lo stronzo oh oh va bene ma l'ho fatto incazzare? no no non vedevo bene che c'era i commenti mi era comparsa no chi è? no che va a finire? questa succede perché sono andata sempre io ma che sta a fa' questa? vabbè niente di grave buongioro devo usare la finestra se non sistemano la porta che ho? non ne andiamo aspetta ci ha dato dentro al corpo continuano a litigare da quando è dentro però fa' Dexid effettua una scelta e per cosa stavolta? ha bevuto ha bevuto chi l'avrebbe bevuto? con queste cicce che non me la conta giusto c'è niente c'è niente c'è niente Dennis quante volte ti ho detto che devi portare in solaio tutte le tue c'è un frutato hey un po' di rispetto questa è una collezione molto ambita rara e prezionale ha rispetto a woman nella vita precedente sarà stata un marine perchè è così abbastanza? mhm perchè Dennis sa fare solo una cosa comportarsi da Dennis oh le is che è Dennis? oh non so se è questo oh no oh no oh no no perchè sta così all'aperto? Kachi Kachi mamma Kachi cambiamo 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 Kachi Kachi no solle no solle cosa succede? oh porco ma mamma ziii sta bambina del cazzo da merda appunto ma ziii io brume al massimo morca puttana bambina del cazzo bambina del cazzo è già il terzo è già il terzo jumpscare che fa sta puttana è tutta bambina un po' morì eh? ah la chiave mocia pure no che fa no Kachi no 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 ziii Kachi sta bambina fa un altro jumpscare tra un po' abbi la porta con il colo e ti ritrovi dietro stavolta non sembravano le solite scaramucce discutevano di megan ma ha fatto qualcosa di male ma non mi stupisce vi sicuro ha più di un'interla fuori con scocchiato perché le stiano sempre a posto a proposito dell'argomento nobile cavaliere non è la principessina lascia in pace lascia in pace non c'è niente no zittà no ma perché devo andare io? già mi sa no sono io no 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 che cazzo va? no ma voi non siamo separati? no no sono lì no 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 Kachi ho trovato una roba che non so cos'è no 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 sole preparati che sto per urla preparati ma ora siamo separati? non vediamo la stessa roba? no 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 siamo separati io sto prepara qualcosa sto cucinando no 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 Kachi devo andare su devo andare su Kachi cosa devo fare? il battito come funziona? e devi solamente pigiare quando c'è perché perché ezi già il battito che cazzo? non devo sviare il padre che dorme ah ok ok cos'è il triangolo? Kachi non mi piace Kachi no so lì so lì stavo leggendo il diario e ha sentito la voce no 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 porca di quella puttana no tranquillo no no sole oddio cade no sole devo andare in soffitta dove c'erano le scale di quel tipo ah io ho detto che te sei da quella dalla bambina tranquillo chi è Tania? Kachi ma io mi devo muovere non ho capito che devo fare aspetta Kachi mi sto muovendo da solo non mi piace il fatto che mi sto muovendo da solo ma io dove devo andare ora? ah sei tu no devo andare da te te sei Tania? si sono Tania e tu stai? sono sopra no no è dovuta sopra eh sì io so io so io so ho cercato ho trovato una roba spero prendila 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 di New England witch witch oh no oh no strega io sento i rumori strani sento io te l'ho dato le streghe ma io non posso aprire una cazzo di porta le streghe d'Inghilterra ma se ma in tutte le stanze che entro la porta è bloccata ma come vedete cacido è andata a te ma 10 10 sali sali le scale guarda tu le impertive per comprendere a fondo i processi alle streghe per me quella bambina è una strega terrestre eh sì è probabile eh solleva ma anche tu io non ci vengo sopra io non ci vengo sopra dai vieni porco non posso stacco il padre che dorme qua vieni canta non c'è non c'è nessuno aspetta non è tutte le stanze sono entrato aspetta posso uscire muovete le fori no caci posso uscire le fori non mi piace ah ok no non posso uscire vieni tu stanno in scale ah oh oddio affanque sei tu ma perché non parla non so non l'ho ancora trovata se te se te Kashi se te Kashi se te Kashi se lo so io qui non è trovato la bambina ma non c'è mi fa il jumpscare la bambina premix in accordo col battito eh no se sta par no son le si d'accordo mi sembra che qui nessuno abbia chiesto la tua opinione comunque che cos'era quel cazzo solo cercando no son le pazza Megan son le pazza ma chi è Megan adesso non c'ho problema con i nomi è la bambina zì è la bambina è pazza sta parlando da sola a me sta sul cazzo con la bambina sta parlando come una bambina sta parlando no peggio da qua io so Anthony cazzo c'è Tanya no son le no che devo fa è Megan è la bambina no devo venire da te no no tu puoi aspetta provo a mettere audio lingua ma probabilmente sottotitoli ah vero sottotitoli nessuno parziali tutti fatto io audio lingua si audio lingua e poi vai parziali o tutti io ma su tutti salvare impostazioni salvare impostazioni metti dopo metti ora l'audio più sul gioco no sole sei un clown dai lo faccio un po' ma giusto un po' anzi ogni jumpscare io mi cago in mano allora caci dove devo andare devo ritornare su da te eh non lo so no non ci fa andare no sole no no sole io non ho capito che devo fare no sole io sono morto come sei morto mi ha chiuso fuori sta puttana cosa so che so fuori in balcone aspetta sento rumori no sole so che so so che so fuori in balcone no sole cosa dovrei fare non lo so ah ah è partita una scena sei tu in balcone dove sei si sono io in balcone zi mi sto chiuso ti sei incazzato ancora con me vai vai sole oh no cacci la bambina anzi la bambina anzi pure te chiude fuori vedi ma che fa è tutto vero oh sole sole l'hai visto anche tu guarda la ragazza si cacci sul lì ma con la babbola del cazzo adesso ti apro lascia stare megan no cacci devo andare io perchè devo andare io cacci ma chi so fuori sei chiuso fuori sole sei chiuso fuori pure tu sta bambina del cazzo madonna merda megan sei dentro cacci la cucina sta bruciando che cazzo succede ma muore esplode boom ma muore il padre eh si muore oh cazzo anche la madre insomma ma è colpa mia oh no ma perchè tutto nella devo fare non è colpa mia ancora uno dorme questo muore pure il padre muore buona bambino buona bambino buona bambino insomma buona bambino schifo ho fatto ma il bambino è felice ti dici ci dici pure ti mi schifo ma pure te quella mano tipo dov'è megan no mi devo muore aiuta 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 che ci ho fatto la scelta giusta sulle calati ho fatto la scelta giusta calati giù apri no adesso le mi fido mi fido non è stata una buona idea insomma caci olè perchè sei il maso solo io in vita perchè hai dovuto fai tutte le scelte vabbè la notizia è vivo era vivo ma che è quello che è quello che c'è dietro chi è questo cinese chi è cos'hai fatto ma aspetta ma aspetta è muore ha vinto il gioco abbiamo siamo abbiamo perso caci è finito il gioco sono le easy beh avevo finito è stato bello questo era il prologo e ma c'è il curatore cosa ma si che ho fatto la scelta sbagliata no non mi sa che doveva morire tutti dovevo scegliere la bambina o te e poi ti ho detto devo usare la cosa io potevo scegliere se scendere lì oppure entrare e sono scelto lo stesso che è ma cazzo comunque quella bambina la sta sul cazzo va bene ma cos'è sta roba tutta cosi sterole caci? caci? ok ma è altissimo il volume della infatti bisogna abbassare direi l'audio, che ne dici? io sento, te sento porco ma cos'è sta parte? e ma c'è il curatore, il curatore è tipo quello che ci dà gli indizi e quello che dice chi vive o chi è morto ma qui sono morti il retro, aia sta luce sono morti tutti no? no, la bambina è viva la bambina è viva ebbè no, quello è ovvio ecco quello in teoria sono le vite dei... cioè non quelle che hai in mano ma dopo le vite dei nostri giocatori saranno lì sulle robe buongiorno 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 eh, l'ho conto di merdi in realtà non c'è nulla da tenere beh sì, sono una bambina pazza che è eh 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 La storia non è ancora stata scritta, è stata subforzata e le scelte dei protagonisti la completeranno. Vedi? Sì. O forse non. Comunque, è meglio pensare al futuro. La vita è un'ombra sfuggente, no? No. Quello di cui sto per natarmi. È un mondo confuso, forse angosciante. Quanto angosciante dipende da ciò a cui vorrete credere. E quanto confuso dalla strada che vorrete scegliere. Questa parte mi piace, come? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Spesso non possediamo tutte le informazioni, ma una scelta va comunque fatta, nella speranza di giungere alla scelta e all'esito che abbiamo desiderato. Dunque, sarete voi stessi a determinare il finale della storia. Non mi piace. Ecco. Olè. Se non vuole troppo assurdo, come nella vita, ogni singola azione è decisiva. Determina la risoluzione della storia. Non si torna indietro a cambiare l'inizio, ma si può cominciare ad agire adesso per alterarlo. Questo era l'inizio della storia. Quale immane tragedia. Il conto delle vittime non è ancora scritto. Dipenderà dalle prossime decisioni. Cosa scelta? Ragione? Sentimento? Meglio seguire? Dai, muovete! No, no, è un po' andare con calma. Sì, sì. A volte è meglio una e a volte l'altra. Il mio consiglio per quel che vale è... Sei sempre fedele a te stesso. Mi chico fedele! Cosa è? Ma... Io sono qui soltanto per annotare gli eventi, non per aiutare. Se suppone che io non interferisca, insomma. Non è il mio compito. Nooo... Ma d'altra parte, apparentemente mi è permesso di condividere le sagge parole dei grandi narratori del passato, qualora io ritenga che esse siano appropriate. Ah, ancora un'ultima cosa prima che ci separiamo. Nooo... Che se trovate mostrano squarci di possibile futuro. Qualcosa destinato... Qualcosa destinato... O non destinato... Ad aprire. Se usate... Saranno... Gli aiuti. Si celebra un funerale, vedo. Ci vediamo! Oh, cazzo! In che stanza! Oh, cazzo! Quanto mi piace un uomo! Allora, fa un culo! No! Non mi piace! Oh, cazzo! Ma che mica il cimitero è questo? Vabbè... Nessuno fra i presenti oggi è in grado di comprendere il motivo di questa immane tragedia. Ma confortiamoci nella consapevolezza che la famiglia sarà unita. Giaomi, qui sarei un po' di nidro. Oh, no! Nell'abbraccio caritatevole... Ma che è sta musica? Madonna! Ma posso collegare un fulmine così? Nooo! Orca di quella puttana! Nooo! Ma che è tornato in vita? Io vedo solo la luce. E non mi piace questa cosa. Ma che è ancora lui? Chi è? So vivo! Ansia di stacco. What? Ma che è questo? Ma che cazzo? Ah, è roba del bus! Ah, no! Sono ritornati qua! Nooo! Questo fa le foto! Studente? Università? Beh, è un maschio! Ma questo... Ah, non è la donna! Ma so tipo... Proprio tanto... Dov'è Daniel? Non lo trovo! Non lo so! Ma dove cazzo è finito questo? Ma dove sei Daniel? Dove stai caci? No, non so... Non so... So io Daniel? Ah... Caci... Aff... Affabilità! Non mi piace, ho visto... Ho visto brutta... Bambina! Cos'è che c'è lì? Ah, ok, c'è una tipa che sta là! Che cazzo? Ma ho già provato, ma posso... Riprovare! Questa è attempata! Caos! Ma questo continua a farsi le foto! Ehi, Andrew, amico! Come stai? Ehi, Andrew! Ah, tu sei... Ah, tu sei sopra, sei! Io so sotto! Sì, l'hai messo pausa, mi sa! Io so sotto! Ecco perché non capivo! Io non ho capito niente ancora, farò che... Eh, in pratica, sì... Questi qua, sono tipo... La reincarnazione dei personaggi! Oh... Cioè, tipo, tu sei il... Il tipo lì che consigliava! Potresti anche avere una... Incertezza... La sfredda è tutto bene... Ma a voi ti è piaciuto quella bambina quando io è apparsa davanti? Ma so io questo, no? Daniel? Io non so Daniel, vero? Non mi piace sta qui da su? No, sono io, mi sa! Il mio telefono! Ma dove cazzo stai? Io so, io so, è accascato dietro, sì! Sto dietro il furgone, so, praticamente! Ma, sono in due! Eh sì, io sono il tipo... Ah, giù! Ma questo è una vecchia! Ma che estero! Ma? No... Ma come cazzo hai messo il furgone? Ma te non vedi la stessa roba che vedo io? Eh, no! Tu mostra vedere i personaggi Ah... Oh, c'è Johnny! Daniel, sei tu? John! Grazie al cielo! Daniel! Taylor, come stai? Sto bene! Bene anche noi, se vi interessa! Tutto a posto laggiù? Sto bene! Non ho niente di rotto! Ehi, John! Perché siamo andati a sbattere? Non lo so! Eh, la bambina puttana! Per evitare un ostacolo sulla strada! Oh cazzo, è lì con voi! No! Non lo vedo! Strano! Non è neanche così! No, cazzi! C'è una mezza inquadatura, vedi? Giuseppe che si vede un po' indietro! Perché da lì arriverà! Qui sembra ci sia un sentiero! Un sentiero? Che io non lo seguirò mai! Ma va! Niente, sulle... Siamo già divisi! Ma porca di quella puttana! Possiamo stare vicini! Cioè, io poi devo andare per il sentiero! Mica tu zio, il porcone! Eh, lei ha sentito il rumore! No, mi piace! Mi daresti una mano a rimettere in piedi Andrew? Aspetta! Non ricordo nulla! Tu... Tu chi sei? È tutto ok! È soltanto la botta! Io sono John, il tuo professore! Eravamo sul pullman per una geta, ma qualcosa è andato storto! Lealtà scherno! Lealtà! Beh, andremo in cerca degli altri e di aiuto! Consideralo una specie di test di crescita personale! Cos'è quella roba? Davvero una bella squadra! Ho fatto un sogno! Sembrava reale! C'erano fiamme ovunque... Con quella botta hai fatto un bel viaggio! Non è essere così cattiva! Ci troveremo lì! No, solle! No, solle! No, solle! No, solle! Tu dove sta? Sento il rumore dei corvi! Nooo! Dov'è l'autista? Dovrebbe essere tornato! Avrà fatto l'unica cosa sensata! Cercare aiuto ai cittadini! Io non c'è una sega! Magari ha battuto la testa e ora sta andando... Ma noia di quella! D'accordo! Voi restatevene pure... No! Caci! 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 No! Ho lasciato il professore andare da solo e io sono rimasto qua da solo! Ehm! Perché? Ah, ok! Ok! Caci! Dai! No, me devo muove! Solle! Solle! So cazzo! Solle! Caci! Combiamo il gioco! Ok! Solle! Te dico solo occhio a sinistra tra un po'! No! No! Fatti a sinistra tu madre! Ora tengo gli occhi chiusi, vado avanti con gli occhi chiusi No, no, stai, sull'è 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 davanti Ma devo andare avanti da solo? Welcome to Little Hope Abandono significa abbandonato Welcome to Abbandonate ogni speranza Ecco Perché dovrebbe interessarmi? Seriamente è una città ricca di storia Molto affascinante E mo? Che gioco Ma che hai detto? Ehi Einstein, tutta la cultura che mi serve è in questo smartphone Beh non è poi così smart senza segnale No, mi devo muovere ancora Soll'è No No, soll'è Soll'è No Tu che stai a vedere, ciò? Eh io sono tipo Eh? Giammi Ti faccio uscire e giochi il mio posto, va bene? Guarda, guarda, soll'è non va avanti Dai, soll'è muovete È rimasto bloccato lì No, no, soll'è no Chi è? Siete voi? Ah, siete ma vaffan Mamma Chiude Ma se te becca di qualcosa fino a mo? E ora che si fa? Cerchiamo in giro, ci serve qualcosa per forzare il cancello Vai Soll'è vai a cerca No, no io non cerco in giro, non ci ho pensato Mi cede le cali zamp scherra Sì Pronto? Io spingo da questa parte 3, 2, 1 Vai Soll'è Easy 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 Ecco Qual è il piano? Ripeto, io preferisco aspettare alcune Non mi piace il piano di rimanere l'aspetta Eh? No Perché? No, non ci serve Ne abbiamo già parlato Hai paura di perdere? Non ci serve Non ci serve Mi dispiace Ma non abbiamo tempo per litigare Tu rimani con me, vero? Solo che sei Taylor Non mi sembra che sia troppo convento Che è Taylor? Se è questa qua Ah Ma Taylor non è un'altra masca Cosa facciamo? Aggiungiamo la città Di ricavartela da te Aggiungiamo la città Ho ragione John In città a trovare aiuto è più semplice Soddisfatta? Certo Ai tuoi ordini Partita versa Intensificata da gente Banna Riesce Non vengono il terreno Non deve essere semplice Soportare la demo Eh Quale cosa? Ma che ha detto Non è il mio fidanzato? No Soprattutto Tu non ti mischiare Chiaro? Perché ridi se il Lega successe? Stiamo solo sprecando tempo Possiamo muoverci per favore Ecco Ma chi è? Io me ne torno sul pullman Voi fate pure quello che vi vale Ma da solo? No 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 Io pensavo che era con qualcuno E andare in città E cercare Bravo Scegli cosa fare Bravo Anche lei che Se andiamo in città Sarà che faccia No 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 Ora vengo pure io Non mi lasciate sole Bene No Esatto Non mi devo isolare Dai Non ti devi isolare Non ti preoccupate per me No Ma perché fai così No 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 Ma perché sono sta cogliona Caci Perché Non posso allontanarmi Ma per me Nuovo spunto all'altra parte Guarda Ma per me Nuovo spunto all'altra parte Guarda Ma che cos'hai Perché torno indietro Non torno indietro Vado nella direzione opposta È come Come se fosse impossibile Allontanarsi Va bene Facciamo una prova Andiamo tutti insieme Siamo arrivati da quella parte Dai cerco che inizia a capire Perché torno indietro Dai Cos'è che devo fa? Inizia a capire Perché torno indietro Eh da se Non Ma stai zitto Tu brutta vecchia di merda No Sono le Cosa? Stiamo entrando Eh Gio Caci Non ho capito Caci Siamo tornati qui Potta fa Devo ammettere che è strano in effetti Vabbè questo è morto Cazzo Non possiamo piuttanare dietro Sì Non è possibile Ho cercato di spiegarvelo Siamo in trappola Siamo bloccati E ora che si fa Stiamo calmi per favore Sicuramente c'è una spiegazione razionale Forse siamo morti nell'incidente Oh Già Teoria interessante Ma nessuno qui è morto Ve l'assicuro Sapevo che sei un esperto di scrittura creativa Non di metafisica Lo so io chi vorrei Gio mi zitto Solo e me le senti le voci? Sento io e sento Gio mi Oh Oh Sto facendo del mio meglio per capire Non senti? Come te e come tutti gli altri Mi dispiace Non so cosa succeda Io non riesco a capire Come dici tu Siamo finiti in incubo Tranquilla Andrà tutto bene Sì sì Tu le conosciabili tutto così Guarda Forse non viene in mente un'idea migliore Si faccia avanti Forse non è reale No no se lei arriva No Kachi Senti 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 Kachi Kachi Non è così che troveremo aiuto Che sta succedendo? Kachi Kachi Kachi? Che c'è sono lei? Perché era così? Non lo so Grazie Ok usiamo la testa La nebbia Si trova tra noi E il pullman Però non c'è nebbia Tra noi E la città Perciò Andiamo da quella parte Non riesco a capire Perché allontanarsi dal pullman No John Non ha condivisione di voce Non si sente Che possa esserci d'aiuto In città Troveremo agente Un telefono O qualcos'altro Mi spiace ammetterlo Ma ha ragione L'unica cosa È provare ad andare In quella maledetta città A me sta bene direi Mi abbandono E dove vai? No Me la c'è solo? No 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 Io solle Non sono più lui Io sono la tipa vecchia ora Ma come Che cos'è quel libido? Non saprei Sarà colpa dell'incidente Kachi? Ecco No mi devo muover Io sono la tipa E io sono la tipa Vedi Vabbè siamo insieme no? Occhio Se tipo Analizzo bene le cose Tipo Scuridiamo là Ecco tu stai a sinistra Io sto a destra Io scorro a destra Ma Sbaglio sempre i tasti Qual è il tasto per curare? Non puoi curare Come? Non c'è la tasto Eh no non puo non penso no Vroom Sono teorie campate in aria Kachi chi sei? Dove sei? Come stiamo vincendo? E' il gatto di prima E' il gatto di prima Kachi Ragazzi gira te No io non mi giro Non c'è pensato E' quello lì E' quello lì Kachi io non mi giro Io non mi giro Se è dato Se è dato Se è dato Se è dato E' il gatto di prima Kachi Io non l'ho visto prima E' il gatto Quello lì Quando è del quadro Del tipo Dal mio Kachi Kachi Bo cazzo Adesso ho avuto io Sei morto Kachi È stato bello No ma che è sta Che è sta visuale Sta visuale così A me non mi piacciono mai Ora già passo Qualcuno davanti a telecamera Guarda Io non vengo No invece vengo No ma questa cazzo Hai detto che non stiamo insieme Che bella trovata davvero Ma stai scherzando Cazzo c'è scritto Perché sa Siamo persi nel nulla E tu ti preoccupi Delle definizioni Quindi fidanzato Non è la definizione per me Allora che cazzo sarei Rilassati Sai che stavo solo scherzando Non avevi l'aria di una Che scherza Non mi credo No non è che non ti creda È solo Ah sono le Sono i E vorrei che noi due Non fossimo un segreto Sono i Ah Sono le Ah ma tu sei Ti sei aperto Ma tu sei dietro È vero Come posso farti capire Che sono quello giusto Devo essere sicura Di potermi fidare No Si inquadrature è brutta un bel po' Si mette la mano sulla parte Brutta dell'inquadratura Ma che è Ma che è Siete voi Io sono andato con noi Ok No io non entro Che sa fa Oh cazzo Caci ma cos'è st'inquadratura Che arriva Il gatto No caci No caci C'è veramente qualcuno Che è Puttana sole Puttana Puttana Che è questo No se lei Io non ci arrivo a fine gioco Io non ci arrivo Io direi primo capitolo Che non so quando finisce Basta Per oggi è già tanto Era introduction Introduction oggi Ehi là Come va Che è questo Questo è un mico Non lo so Mi scusi Stiamo cercando il nostro autista Come? L'ha visto? Ma? Cazzarino Si divertente Che cosa? Ha visto la nebbia là fuori? Non è normale Ehi stasera è fitta Troche Così fitta che noi siamo bloccati Si so cosa si prova Ma chi è questo? È il ragazzo nero Quello che Stai baciato la La dipa in macchina Mi sa Cioè penso Ah ma tu su lei Stai facendo altro 10 dollari 10 dollari Che non becchi il centro Preparati a sganciare Non ti facevo così agguerrita Caci perché sto giocando a freccette? Non mi piace No grazie Prova con il 20 singolo Caci ho fatto 20 Del principiante Prova il doppio 7 Caci ho fatto un pro Presto Ora muovo che c'entro Che ti faccio? Ok Sei una sbruppona Ma avevi ragione Ma che cazzo vuol dire? Chi era quel tizio? Prima Potrebbe andare peggio Dalmeno c'è salmato Cosa è i giomi Che mi consolano Diamo un'occhiata Ecco Ecco Devo andare in giro E sfruttare Ma porca la puttana Che è Angela? Non mi ha ascoltata sulla nebbia Poi Oh no guarda Si sono persi anche loro E ora Ah forse Tele aveva ragione Ma che sta a fa' Quello sta Penso tu sia stupida Al contrario Oh no Sollea Andiamo a vedere che succede È stato il tramonto della città Eh sì appunto Stai in un mondo tutto suo Ehi un vecchio bersaglio Ai tempi sapevo il fatto mio Vincere sarà dura Talento naturale Resta Gioca pure Io do un'occhiata in giro Solo esplora mi raccomando No Do un'occhiata in giro Caci E l'ho 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 fatto io finora C'è giusto due tiri E poi pensiamo seriamente Io verrei volentieri un bicchierino Devo smettere la cazzo vuol dire Capita di esagerare con l'alcol E ora Non si può stare in pace qui Avete un telefono? Deve esserci un telefono qui C'è ma è morto Non ci credo Qui sembra tutto Morto Bene Grazie per l'aiuto Sì Grazie E' molto gentile Caci dove devo andare No caci Caci Vai in giro a cazzo Vai in giro a cazzo di canadino Io devo ancora per usciare qua Oh il telefono Aspetta aspetta Canto io Vedete Oh Ma che è scemo? Siamo isolati Niente Non funziona il telefono Caci Io ho trovato una foto Ma Ma Me la fai guardare Ma Porca di quella puttana Siamo d'accordo Ma Vedo l'ora di andarmene Da questo inferno Foto di guerra Oh cazzo Foto di guerra Dove stai? Io sto all'entrata praticamente Stavo esaminando all'entrata Non 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 usci Eh Ma cos'è Ma è una roba complicata per me Da leggere Quindi lascio stare Aspetta Non 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 dà la porta Non usci Qua dove Ancora qua Di fuori c'è tizio brutto Quindi Eh appunto Ma questo è il telefono Caci Ho trovato dei numeri Eh lo so Pure io Fantasmi Caci I vostri figli Si interessano A spiriti o fantasmi Eh E ci sono dei codici Che non so cosa servono Molti codici Oh Eh cos'era Caci Cos'era Cosa Ho sentito Caci ho visto Una foto di qualcosa E c'è tipo Una data Oh fuck No caci Caci Cos'era Tu sei Caci Caci Oh cazzo Che devo fa Io sono minato Un po' di roba E adesso Ma usciamo allora Prosegui verso la città Eh appunto Ma veramente Prosegui verso la città Ma te lo sei Voglio stare vicino a te Dietro di te Dietro di te Ah te sei questo Si Questo qua Quello con gli occhiali Eh sono le Si esci Andiamo Andiamo Esci vai Prego Prima Ai uomini Prego Oh cazzo Guarda Apri la porta C'è quel tizio De prima Andiamo via E Come ho sentito Qualcosa è brutto Prima Ma fate Sentito anche lei Andiamo Quendi Un valuto Ecco Perfetto Possiamo rimanere qui tutto il tempo Insieme a quel tizio che beve Oh cazzo Anche su questo tizio è un po' Spero che troverai quello che cerchi Dove va questo? Dove va adesso? Bastare Ah gioca freccette The black cow Il gatto Eh si Il bar del gatto nero Quel gatto c'era pure Prima quando Lì C'era quel tizio lì Tipo Com'è che si chiamava? È strano il momento Chi è che verrebbe in questo postaccio Per fare il pieno? In che senso? Solax è Andrew Io sono Angela Manco Che è Andrew? Che palle Caci perché sono l'ultimo? Aspetta mi caci Caci Aspetta Vieni qua Vieni qua Giovin perché se sei in parti Scrivi in chat Oh c'è qualcosa? Che cazzo è? Che luce È un'immagine È quella roba lì Tipo da qui Sì Famiglie Che signifo? No è solo un'immagine Cioè C'eri tu che stai puttando una pistola Contra qualcosa Caci Devo Solle Ah qui è la Little Hope Orca la puttana Che paura Posso di merda Dove cazzo? Ah cioè Noi dobbiamo attraversare Tutta la città Cosa? E vedi Se tu esaminici C'è che noi siamo lì Noi dobbiamo passare In mezzo A tutta la città Proprio Eh caci Ce ne andiamo da qui Non mi piace Minchia Execution site Massacre No anzi Questo era un campo di concentramento Porca la puttana Porca la puttana Adolfi Adolfi Aspetta Vicini Ah no stava No no niente Non c'è un cazzo Andiamo Doi so gli altri Doi so gli altri Vabbè Ma guarda Caci Vabbè Sono i due Era meno Caci vai troppo veloci Sono lento Ma cosa direi Sono lento Ho un cattivo Ma dove stanno gli altri Siamo noi due qua Siamo bloccati qua Passiamo dalla nebbia E ritorniamo sempre in quel punto Guarda Oh Cos'è No Ma gli altri dove stanno Cos'è Caci Ma che cazzo è Sembrerebbe essere Un effigie Cos'è Cazzo Quindi non so più Dovemmo andare qua Un qualche altro simbolo Eh appunto Ma non lo Ma E' quello lì Che c'era Non lo toccare Indicap Devo che la nebbia Non condizioni Solo l'orientamento Anche l'immaginazione Non scherza Non sono superstizioso Ma Quello che Succede con la nebbia Meglio raggiungere gli altri Non voglio perdere altro tempo Con questo Ma dove sono Sti coglioni Ce l'hai lasciato così Cioè Sto preoccupati Ti spiacerebbe Accelerare il passo Oh Eccoli Oh Oh no Che è No Che è Sti coglioni No No Cazzo Io non sto guardando No No Dai io Mi sono Ci vuole stare Tutto il tempo Chiuso L'unico Momento Che l'ho aperto Che mi ha passato No No Sono lei No Sono lei Io l'ho preso in pieno Cacci No ma sono lei Ma siamo fuori Basta 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 Cosa Cosa c'è Cosa c'è Brutta puttana Basta Ma chi è Basta La bambina di Merdes No Ecco Appunto Puttana Forse era L'autista Che ci fa Una bambina In giro A quest'ora Della notte Cacci Cambiamo il gioco No Sollevuto Se c'era davvero qualcuno Ormai se n'è andato Io vedo solo Guarda adesso No 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 Cos'è Ma 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 Cacci Solleva che cazzo L'hai visto anche tu Mi ha il tifo stanno In tutto ciò No no che è sta roba Ha scomparso Cacci Ma datti Hai visto Ho visto Ma si l'ho visto Datti Ma datevi Adesso ho paura No no Chi sei No Trema tutto No Dai John dove sei Non sei divertente Solle che è sta musica No cacci Io non glielo fa Io non glielo fa Io non glielo fa Mi devo muovere io No Ma possiamo andare di qua No 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 Non allontanate No 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 Mi ha lasciato così Ma poi sono lì Solo io ho piato i jumpscare Perché sono io Oh no Anch'io uno Io uno Te due No Ragazzi Vediamo indietro Hai sentito Guarda I sottotitoli Ragazzina Sono le qua Sono le qua sinistra Sono le qua sinistra Ma le fu Qua sinistra No cacci Cos'è no Guarda su cerchio Non so che cazzo sia Ma guarda che ne No cazzo Io non glielo faccio Io non glielo faccio Guarda che puoi mettere pausa Come si mette pausa Eh pausa Touchpad o option Noo a sole no Noo a sole no Noo a sole la bambola voodoo Sole la bambola voodoo Noo a sole la bambola voodoo Ma chi me l'ha fatto fa Ma lascia la Ma lascia la Ma lascia la Ah no il cartello Eh bravo sono le pia Tu bravo 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 Ma perché la donna fia io Stava No 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 io questo Ecco io questo Bambini Obiettivo parla con la ragazzina Aspetta 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 Non glielo volevo rubare Aspetta 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 Porca di quella Puttana Aspetta 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 Porca di quella Troia Aspetta Oh madonna Aspetta Aspetta Fammi bere un attimo Aspetta Porca Puttana No io non so Pronto Guarda come ci siamo stoppati C'è quella Babila davanti E se la vedo Caricola Puttana Aspetta Aspetta Non ho acqua Devo andare a prendere L'acqua Porca Caricola Puttana No io non Io c'ho pure Di la pia L'acqua Adesso non ci vado Non ci vado Non ci vado Non ci vado Senti i motorini di Giovin Andratti Ti rassi i motorini di Giovin Non so Mi è stato così difficile Sentire Dai Guarda Guarda No 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 Amici Posso chiedere il vostro nome Oh Ma che cazzo Sono Andrew Oh guarda che faccia che c'è Guarda Guarda come parla poi Guarda come Se no appunto Guarda che faccia No cazzo Ma No No Ti prego Ti prego Facci le le solo Facci le le solo Facci le le solo Giochiamo Chi è la madre strega Cos'è Ma chi è quella Fatti vedere Emi Torna indietro Ci sono delle persone Che cazzo Oh ma Così Dal nulla Oh Anta la venta Zinta la venta Porca di quella puttana Cos'è da dietro Spero fosse un cartello Spero anche io fosse un cartello Ok si è un cartello Un cartello Ah vado Sta bambina Ma dove è finito tutto? È spocomparse dal nulla Ma non lo so Nebbia potrebbe avervi confusi Siamo sotto pressione Ma quale pressione Ho visto chiaramente Una bambina ballare davanti a me Ha detto di chiamarsi Mary Era identica alla bambina del sogno Parlava in un modo strano Non so neanche se fosse di qui Anche a me i suoi modi parevano strani In che cosa ci siamo cacciati Volete giocare con me? Cos'è? Mary Voleva farti del male Aveva un'aria Sembrava maligna Ah senti mute lì Gio L'ho fatto buo? Ma sei bollente Che ti ha fatto la bambina? È meglio se teniamo d'occhio Andrew Oh è un cartello Madonna Il dolore sta passando No Tu sei maledetto Hai un'idea migliore? Certo che no Basta che non ti muovi di nuovo Eri cammino Ecco ma Ecco ma io Non c'ho più la torcia Perfetto Glande Glande No cazzo No cazzo Ste inquadrature Oh non mi piace Ah andiamo dal tizio? Eh probabile Vediamo Semplicemente se Oh un po' di Ogni azione compiuta O negata E destinata A presentare Dire per oggi Il nostro è fatto Mi dispiace molto Ma non posso fare nulla Come ho detto Siamo abituati a rallegrarci Con noi Vroom 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 Forse accade lo stesso Anche Dopo la morte Mmm Nella mia vita Sono stato testimone Di molti eventi Ho visto e sentito Varie credenze E affermo Senz'altro Che vi era in ciascuna Un po' di verità Sembra che questa povera gente Sia minacciata Da forze Del tutto Inesplicabili Come ombre che si agitano Nel bosco Spiriti del passato E la bambina Che forza è in perico A meno che non sia lei No Che succede a Gio Arriva la bambina Arriva la bambina Gio Quanti Come John Sembra che incarni L'autorità O magari Rappresenta qualcos'altro E poi c'è Andrew Mi sembra leggermente confuso Come John No no il cazzo Nella botta in testa Sono state prese Decisioni che si riveleranno Preziose Tuttavia altre Potrebbero rivelarsi Poco felici Poi quell'uomo nel bar Ha stato di grande aiuto Anzi parecchio scortese Devo dire La sua mente è Torbida O così fa Bene Volete l'opera chiude in sé Qualcosa di misterioso Potrebbe celare dei pelli Veramente Wow Ah ma è giorno Godo Di giorno non è pauroso Ma cazzo ora l'autista Ma l'autista che fin ha fatto Non è proprio giorno Marco No altro che E ma iniziano le case Oh porca puttana Siamo sicuri che vogliamo stopparci qua Sono le Ma dove Quasi mezzanotte Direi che Buona Come cazzo si salva Ritorna Aspetta Fami vedere Andate una volta Dei personaggi Angela Segreti Ok 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 Spiritus Questo dovrebbe essere La parte più Ma questa è una Delle più tranquille Cioè forse questo è L'inizio Io lo so Bambina Sperduto Figura di riferimento Porca la puttana Vediamo La torna La torna La torna principale Ma deve riuscire Si Ok Sto sudando Si Buon sole Adesso Finisci la live Che vado a riguardarmi Il jumpscare in diretta La prima cosa che faccio Vabbè È stato bello Ci vediamo La parte 2 Direi che è il primo capitolo Oggi più che Una settimana Ma per Che faccio Le ripubblico tutti su youtube Queste parte Eh si È porca di quella troia Sarà il mio primo Walkthrough Si dice Walkthrough Non giocare da solo Fai tipo Storia condivisa Vediamo un po' Beh Si Vediamo la parte 2 Che Spero sarà più tardi possibile Addio Probabilmente Domani Ok Si si A posto Ristorante lungo la strada Easy Easy